Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere qui collegati insieme a noi. Io sono Sonia Gennaro, Marketing Manager di Lita. Stasera vi presenteremo due dei progetti online in questo momento sulla piattaforma. Scusate il riflesso dei miei occhiali. Quindi vi presenterò appunto il progetto Humus e il progetto CY. Intanto usiamo questi primi minuti per spiegarvi la piattaforma, come vi dicevo. Alla destra dello schermo trovate la chat dove potete scrivere e tutti leggeranno ciò che scriverete. Accanto c'è la sezione domande. Pietro, se hai già fatto una prova, non è compasso ancora nulla. Quindi se vuoi puoi riprovare. Grazie mille per la partecipazione e il contributo. Vi dicevo anche, la domanda più votata dal pubblico verrà letta in diretta da chi ha posto la domanda e direi che possiamo iniziare ufficialmente questo webinar. Io sono Sonia Gennaro, marketing manager di Lita Italia. È arrivata la prima domanda. Grazie Pietro, perfetto. Lita Italia è una piattaforma di equity crowdfunding specializzata in progetti e investimenti sostenibili per l'impact investing, quindi per quell'attività di investimento orientata a generare un impatto sociale e ambientale intenzionalmente, oltre a generare un rendimento economico. Siamo il primo gruppo europeo a essere specializzati in impact investing e adesso vi presenterò, scusate, vi presenterò le due start-up in fundraising in questo momento sull'Ita che sono appunto Humus, una start-up innovativa a vocazione sociale che ha creato la prima piattaforma indipendente di job matching per il lavoro regolare in agricoltura e CY che commercializza abbigliamento e accessori da mare e non solo completamente ecosostenibile. Ringrazio per la loro presenza i miei colleghi, Silvia e Giuseppe, che tra poco ci raggiungeranno sul palco e do la parola al team di CY, ad Alberto e Simone. Ad Alberto Bressan, che chiedo di salire sul palco. Eccoti. Come funzionerà la serata, questo webinar? Ciao Alberto. Ciao Sonia. Dicevo, i team presenteranno il proprio pitch per una quindicina di minuti e poi potrete far le vostre domande. Ovviamente scrivete le domande già durante il pitch, così le raccogliamo intanto e poi si passerà al successivo progetto. Lascio la parola ad Alberto e grazie. Grazie Sonia, benvenuto a tutti. Purtroppo questa non è la mia classica cera, ma ho il sole che batte sulla telecamera del computer, quindi sono più pallido di quanto dovrei essere. Condivido il mio computer, così vi racconto un po' del nostro progetto. Il nostro progetto, che si chiama CY, è nato un anno e mezzo fa da un'idea che abbiamo avuto io e Simone, che è il mio partner professionale in CY, ed è praticamente partita dalla definizione di un problema che è agli occhi di tutti, che è l'impatto che ha sull'ambiente e sulla sostenibilità ecologica il business del tessile e dell'abbigliamento in generale. Partendo da un'idea che forse non tutti sanno, è brutto da dire, il tessile è il secondo business più inquinante globale dopo il petrolifero e quindi potrebbero immaginare che impatto ha sul quotidiano. A livello globale, praticamente un quinto di tutti i pesticidi sono attribuibili alla coltura del cotone e quindi un quinto di tutti i pesticidi vengono generati per la produzione delle magliette che abbiamo addosso tutti i giorni. Un capo di fast fashion, questo è un bel dato, in genere viene indossato solo sette volte prima di essere gettato e questo in paesi più virtuosi. Ci sono paesi un pochino meno virtuosi di noi, come i paesi americani, in cui il numero si abbassa anche a cinque. Per produrre una maglietta, una t-shirt ci vogliono in genere 2700 litri d'acqua, la indossate cinque volte e viene buttata via. Pensate che 2700 litri ad acqua sono tre anni di acqua potabile di ciascuno di noi, quindi l'acqua che noi proviamo a bicchieri. Quindi noi buttiamo via dopo cinque volte all'indosso l'acqua di tre anni. Un dato che ci ha fatto costruire da un lato il nostro modello di business e dall'altro la nostra value chain è che se noi indossassimo per nove mesi aggiuntivi tutti i capi che abbiamo già nel nostro guardaroba, avremo una riduzione dell'impronta ambientale dovuta ai capi che abbiamo a casa del 30% a livello di produzione di rifiuti, di emissione di CO2 e di consumo idrico. Quindi è molto 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 notevole. Allora, partendo da questi dati che sono un po' terrificanti da un lato, abbiamo costruito un modello e ci siamo chiesti perché stiamo costruendo una cosa, facciamola nel modo migliore e più trasparente possibile. Quindi perché è nata CY? CY è nata mettendo in un frullatore tre termini e tre parole, è un neologismo che nasce da SOS, quindi Save Our Souls, a Sea come mare e società, quindi la società dovrebbe fare qualcosa per il mare che grida dalla mattina alla sera alzando una manina in dato alle condizioni in cui versa. Quindi abbiamo costruito un'impresa che abbiamo poi abbreviato in CY, che è la linea tessile tra quelle che stiamo mettendo all'interno di Society, perché a breve metteremo anche una linea Civo, che ci permette di disegnare e distribuire prodotti di beachwear, ma non solo beachwear, che sono prodotti con materiali riciclati, che hanno una catena di fornitura molto breve, c'è una grandissima attenzione in tutte le fasi che costruiscono non solo il prodotto, ma dal momento in cui viene disegnato al momento in cui viene distribuito sul mercato, e abbiamo in aggiunta costruito anche un modello che mira un sistema economico circolare chiuso che si chiama R3, che a breve vi spiego. Allora, siamo partiti prendendo i 17 punti dell'SDG, dettati delle Nazioni Unite nel 2015, e abbiamo deciso di lavorare su due. Il punto 12, produzione e consumo responsabile, e il punto 14, che è la vita marina. Rispetto a questi, nel momento in cui stavamo pensando come dar forma al nostro progetto, Edoardo, che è un caro amico, è saltato a un board dicendo ragazzi, mi sono molto cari i vostri temi, fatemi disegnare dalle Hawaii, dove abita Edoardo, la vostra collezione. Quindi la nostra collezione è al 100% made in Italy e al 100% disegnata alle Hawaii. Abbiamo messo insieme i due poli più distanti, che quasi si possono trovare sulla cartina, ma il risultato è stato un ottimo risultato. Quindi il nostro sistema ha, da un lato, il modello R3, e dall'altra tutto quello che vuol dire cercare di ridurre l'impatto della produzione di abbigliamento sull'ambiente al massimo. Partiamo da qui. Per la nostra linea di costumi donne utilizziamo una fibra, un tessuto, che ha il 65% riciclato, è nylon che viene recuperato da frammenti di detriti di scarti, la lavorazione tessile, e detriti plastici che vengono recuperati dal mare, come le retti da pesca. ha un basso impatto, un meno 80% rispetto al nylon vergine, quindi contribuisce largamente al nostro obiettivo, che era la vita a livello marino. I costumi da uomo sono in poliestere, prodotto al 100% con detriti plastici post-consumo e detriti plastici che vengono recuperati dal mare, nella percentuale del 90% e 10%, 90% post-consumo, 10% detriti plastici recuperati in mare. la nostra piscenteria e felperia è in cotone organico o riciclato, le due cose non possono andare insieme, quindi alcuni capi sono in cotone riciclato organico, in alcuni capi sono certificato GOTS, quindi Global Organic Testized Standard, che è la più alta certificazione sul cotone organico, e sono tutti certificati con tintura Ecotex, che è la tintura più bassa emissione di chimica all'indosso. Non solo collezione, ma anche come la spediamo, quindi abbiamo un metodo di spedizione che utilizza delle bustine, che invece di essere in poliestere, come la maggior parte dei concorrenti, è in materiale organico e compostabile, lo potete buttare nell'umido di casa e diventa compostabile nel giro di qualche giorno, certificato TUV Austria, e ai nostri clienti wholesale, quindi negozianti, insieme alla nostra collezione diamo in comodato d'uso un espositore che è fatto con materiale riciclato al 100%, vedete 95% perché il 5% è il collante che lo tiene unito, ed è al 100% riciclabile. Oltre a questo, come vi dicevo, abbiamo una rete di fornitura molto breve, quindi tutti i nostri fornitori sono a meno di 300 km dalla nostra sede che è in Veneto. Abbiamo un'ottima partnership con UPS, rispetto alla quale ci avvaliamo di un metodo di distribuzione che si chiama Carbon Neutral, quindi per ogni chilo di CO2 che noi emettiamo nella fase distributiva, UPS si impegna a tagliare della stessa emissione in business in cui è effettivamente possibile ridurre l'emissione di CO2. La cosa che ci rende però veramente unici sul mercato è questo modello che si chiama R3, e come funziona? Di fatto noi garantiamo un green bonus del 20%, quindi uno sconto del 20% a tutti i clienti che acquistano un nostro capo, sia sul nostro e-store che nei negozi fisici, e ci rendono un loro capo usato della stessa tipologia, quindi una maglietta per una maglietta, un costume per un costume, una felpa per una felpa. Come funziona? Noi, insieme alla cooperativa che ci esistisce, il flusso dell'operation, decidiamo, valutiamo se il capo possa essere rivenduto, donato o rigenerato in base alle condizioni estetiche e funzionali, quindi si può essere ancora indossato. Se il capo è bello ed indossabile, viene sanificato e rimesso in vendita, i proventi vanno a vantaggio della cooperativa, che è una on-loss, quindi a coprire le persone che lavorano nella cooperativa. Se è carino, ma non bellissimo, ma ancora indossabile, viene sanificato e dato in beneficenza. Se non è né carino né indossabile, viene spedito a Trento, viene trasformato in nuovo filato, rigenerato per l'appunto, che noi andiamo ad acquistare, una volta che viene tessuto, per le produzioni future DCY. Cos'è la cosa bella? Che tutto è massima trasparenza, quindi il cliente si registra sulla nostra app, e la possibilità di vedere se il capo che ha donato, rispetto al quale ha avuto comunque il 20% di sconto sull'acquisto del capo nuovo, è stato rigenerato, donato o rivenduto. Nel nostro progetto c'è anche l'apertura e la riconversione di alcuni ex pompe di benzina, stazioni di rifornimento in punti vendita, che hanno la possibilità, come vedete sul retro, di recuperare i capi, dividerli sulle varie opzioni del R3 e rivenderli insieme ai capi nuovi nel negozio che andremo a creare. A livello di mercato, il mondo del business, il mondo del bici, è un mondo che vale circa 23 miliardi, fatturato globale 2022. Brasile è country numero uno globalmente per le vendite, invece l'Italia è la seconda a livello europeo, con un fatturato di un paio di anni fa, intorno ai 720 milioni di euro, con un tasso di crescita, soprattutto sull'export, che per noi è importante, è del 2.2 anno. Un'analisi molto interessante è quella che ha fatto PricewaterhouseCoopers, è di fine anno 2019, quindi è molto recente, circa i prodotti sostenibili, quindi il 40% dei consumatori sono disposti a pagare un prezzo premium per l'accesso dei prodotti che abbiano determinate caratteristiche, che sono, quindi prodotti sostenibili o etici, eco-friendly, prodotti d'aziende che siano riconosciute per le proprie politiche sostenibili, oppure prodotti d'aziende o punti vendita che facciano delle donazioni, abbiano un imballaggio, quindi un package sostenibile, siano prodotti localmente o organici, quindi vedete come, rispetto al racconto che vi sto facendo, la maggior parte di questi elementi noi ce li abbiamo all'interno del nostro DNA, ma la cosa bella è che il prezzo non è premium, quindi il nostro punto prezzo è medio sul mercato e quindi offriamo già ai consumatori un bel asset a un punto prezzo che è assolutamente concorrenziale. Vi presento brevemente il team, io mi sentite parlare con il solito cappellino rosso in testa, portafortuna, Simone con il suo cappellone, anche lui in testa, perché i parrucchieri sono chiusi a causa Covid, siamo nati insieme come progetto un anno e mezzo fa, nel frattempo abbiamo fatto crescere la squadra, la prima riga che vedete sopra è il team stile design, quindi Maurizio che si occupa di tutta la creatività del team, Edoardo che ci sviluppa, come vi raccontavo, le grafiche alla Y, Valentina che si occupa della linea donna e Giulio che si occupa della linea uomo. Per la seconda riga trovate Elisabetta, sembra una formazione di calcio, mancano solo i numeri sulle maglie, Elisabetta che si occupa della certificazione, certificazioni, è un ingegnere, Mirko che si occupa della parte marketing, Giacomo che si occupa della parte web e Stefano che coordina il team di vendite che in realtà è composto da due persone, ma Stefano le coordina. Abbiamo in aggiunta un board di advisors, quindi delle persone che ci danno dei consigli sulla gestione del business, quindi abbiamo Giusy che è il CEO dei Fashion Technology Accelerator, vi racconto la slide successiva cosa vuol dire, abbiamo Maurizio che si occupa di tutta la parte di operation da Los Angeles, e abbiamo Davide che è stato il mio capo, il mio primo capo in quanto dipendente più di 15 anni fa, che in quanto GM di Northwave ci sta dando delle belle suggerimenti. Fashion Technology Accelerator merita una menzione, non una menzione, che è un'altra cosa, una menzione, Fashion Technology è un acceleratore di startup innovative o che abbiano tecnologia all'interno delle proprie caratteristiche, ogni anno riceve circa 800 progetti e scegli i più virtuosi. Tra gli 800 ricevuti quest'anno, CY ed altri due hanno avuto la fortuna di essere ammessi, quindi siamo in fase di acceleratore, questo acceleratore che ci sta dando diversi punti, ci sta dando diversi, per l'appunto, punti plus, sta lavorando sul business plan, sta lavorando sul piano di marketing, sta lavorando su tutte le piattaforme tecnologiche, eccetera. A livello di marketing, come facciamo per promuoverci? Allora, insieme a Legambiente abbiamo steso una serie di giornate per la pulizia della spiaggia, anche perché se ci pensate, di fatto con il rifiuto plastico che arriva dal mare, di fatto noi ci costruiamo le collezioni, quindi è stato bello creare questo link. Purtroppo quest'anno la maggior parte delle date che vedete sono saltate causa lockdown, le riproporremo per l'autunno. Un'altra cosa che facciamo sono delle feste dove ci sia dell'acqua o dei fiumi o dei laghi o dei mari sempre per promuovere il nostro DNA, quella che vedete la foto di una festa che abbiamo fatto l'anno scorso sul lago di Como, dove abbiamo diverse partnership con delle scuole di wakeboard. Abbiamo degli ambasciatori, siamo orgogliosi di avere tra i nostri ambassador Alessandro Piu che è sei volte campione nazionale italiano di surf ed è un documentarista, è un ragazzo sardo, è bravissimo, Giorgia che è la sportiva dell'anno 2017 secondo la federazione di Lausanna, abbiamo Brittany che è una surfista hawaiana e abbiamo Fabrizio Passetti che sta diventando parte del team per la parte vendite, nel senso che si occuperà di distribuire CY in alcune regioni italiane da quanto si è innamorato del progetto e salito a un board come team ed è il più famoso probabilmente adaptive surfer italiano. Abbiamo una partnership con due agenzie che organizzano viaggi, da un lato WeRoad a cui garantiamo uno sconto a tutti i viaggiatori e all'altra Surf Week che è una piattaforma che organizza vacanze legate al mondo dell'acqua e del surf rispetto ai quali stiamo sviluppando anche tutte le divise per gli accompagnatori, gli istruttori quindi ci piace molto questa partnership con un'agenzia che è così legata alle stesse caratteristiche che abbiamo noi. Purtroppo quest'anno siamo stati forzati a trasferire in digitale molta della nostra attività fisica e quindi abbiamo sviluppato dei contenuti con i nostri ambassador che abbiamo battezzato Sunday Brunch in quanto li abbiamo sganciati la domenica mattina in cui cercavano di dare una chiave di lettura sulla ripartenza post stop forzato da alcuni mesi leggendo il tutto con una mentalità da sportivo quindi come uno sportivo interpreta gli stop le cadute le difficoltà e cerca di ripartire ancora più forte di prima. La campagna che è in corso con l'ITA siamo al rush finale mancano ancora due settimane punta a raccogliere su una valutazione di 700.000 euro pre money circa dagli 80 ai 200.000 con la campagna gli altri che vedete che mancano dagli 80 ai 200 sono delle raccolte collaterali che stiamo facendo il business plan porta a un obiettivo di circa 100.000 capi prodotti nel 2023 e a 2.100.000 il fatturato metà del quale viene fatto sull'e-commerce quindi siamo mezzi digital e mezzi fisici come vedete abbiamo dei costi fissi che è la parte di costi fixed cost che è piuttosto bassa ed è dovuto al fatto che ci stiamo appoggiando dalle strutture molto flessibili proprio per non avere un impatto di risultare quanto più dinamici all'inizio della nostra vita come società ma anche in questa fase molto complicata di business in quanto i negozi sono parzialmente chiusi non c'è una predisposizione d'animo particolarmente propensa e quindi stiamo cercando di mantenerci il più flessibile possibile per non andare a spendere soldini su costi fissi ma investirli in visibilità il nostro break-even è previsto abbastanza breve quindi nel 2022 a seconda di come siamo in grado di far partire il canale dell'e-commerce canale e-commerce che sta partendo in realtà molto bene grazie anche al contributo dell'acceleratore che vi citavo prima che è FTA con questo io vi ringrazio provo ad uscire dalla presentazione così torno alla mia faccia eccoci qua non so se avete domande io chiamo in supporto a questo punto Sonia o se avete domande mi sa che le posso leggere direttamente io ecco tornata Sonia eccomi eccomi e mi sta raggiungendo anche Silvia che vi ha fatto delle domande Silvia che alcuni di voi conoscono perché ha affiancato alcuni investitori già nel processo di investimento eccoci ciao ciao a tutti buonasera abbiamo già qualche domanda abbiamo già qualche domanda io lascio il palco a voi sì e io inviterei anche Giuseppe che è analista finanziario responsabile selezione progetti qui dall'Ita e che ha che ci dà un bullet point di tre motivi per investire e tre cose da segnalare da parte da parte nostra da parte di l'Ita su CY prego Giuseppe buonasera a tutti sì è prima di passare alle domande ci tenevo a fare un breve recap del perché abbiamo intravisto del potenziale in CY e come diceva Alberto la tematica della moda sostenibile è una tematica molto attuale e devo dire che CY è stata una delle poche società che abbiamo visto che ha all'interno proprio del DNA della società stessa questa idea di voler risolvere il problema con delle azioni concrete quindi questo qua è sicuramente il primo punto il secondo punto è legato al team che ha un'esperienza di lungo corso all'interno del settore della moda del retail e quindi crediamo che questo sia uno dei punti fondamentali per il potenziale successo di una start up e il terzo punto ovviamente legato a quello che è il DNA di Lita è l'impatto ambientale generato dove troviamo appunto un modello di economia circolare che è il massimo grado di impatto che può essere generato quindi riassumo in questi tre punti quelli che secondo noi sono i punti di forza direi di passare alle domande che vedo che ce ne sono ce ne sono un bel po' lascio a te Silvia la gestione perfetto grazie allora volendo iniziare questa sessione di Q&A intanto prima mentre appunto i partecipanti votano le domande o ne scrivono altre poi tanto leggeremo comunque gran parte delle domande che avete fatto io ne ho una per appunto per approfondire sul tema di Fashion Technology Accelerator che è una grande opportunità per voi volevo appunto sapere come funziona di preciso il programma e quali sono i risultati che vi aspettate da questa da questo acceleratore allora il programma funziona in essendo digitali loro funziona in digitale nel senso che noi abbiamo una sorta di training settimanale su praticamente ogni aspetto che riguarda la nostra il nostro progetto quindi va dalla revisione del business plan alla struttura della piattaforma di commerce alla stesura di un piano di marketing riporzato una serie di connessioni con possibili investors che loro possono avere quindi è veramente molto interessante c'è un come si dice un incontro generale settimanale poi si lavora per task per piccoli gruppi a seconda delle proprie responsabilità ogni settimana in approfondimento su alcune tematiche FTA è diventato parte del gruppo CY nel senso che abbiamo ceduto a loro il 5% della nostra società questo è a garanzia di tutti anche perché loro si aspettano di fare un exit il prima possibile quindi loro si aspettano di remunerare il loro tutoring e venendone fuori in tre anni cercando di capitalizzare quanto più possibile quello che che sarà il valore del 5% da qui a tre anni la cosa che mi piace molto di FTA al di là della competenza tecnica è veramente il networking quindi ci sono dei contatti di altro profilo che ci stanno dando veramente una gran mano certo grazie allora continuo magari le riassumo e poi ti lascio rispondere a più domande ci chiedono dove vengono prodotti i costumi e quindi ti chiedo dove sono localizzati i fornitori e poi appunto quale tipo di plastica viene utilizzata dai vostri fornitori e quindi post consumo pet immaginando le domande le domande più nello specifico e poi riguardo invece al vostro al vostro team e alla società è come per il momento per adesso prima della fine della campagna di fundraising sull'ITA come è suddiviso il capitale sociale al momento e poi proseguiamo con le altre allora parto da il prodotto allora di fatto divido in due passaggi tessuti e service service è chi confeziona il capo sulla base delle specifiche tecniche che noi passiamo quindi il nostro ufficio stile e il materiale è il materiale che noi scegliamo per la produzione dei nostri tessuti allora il materiale viene prodotto per la linea donna in Italia è un'azienda di Trento per la linea uomo in Spagna quindi siamo all'interno della comunità europea mentre vengono prodotti entrambi da un nostro service da due in realtà uno che è in Lombardia e uno che è in Veneto quindi la linea uomo viene affidata ad un service Veneto la linea donna viene affidata ad un service Lombardo in materiali si parla di poliammide per la donna che vuol dire che è circa 65% nylon che è la parte che viene rigenerata quindi ecco perché vengono utilizzate le reti da pesca che sono in nylon oppure le reti che ci sono che vengono usate per la coltivazione delle cozze e tutti noi le abbiamo viste quando facciamo le passaggiate in spiaggia soprattutto in alcune aree geografiche che ce ne sono veramente tante perché quando arrivano le mareggiate spazzano le reti e le troviamo tutte in galleggianti in acqua tra i piedi quindi 65% riciclato la parte che ad oggi ancora purtroppo non si può riciclare è il poliammide quindi la parte elastica del tessuto che è vergine ma al fine ciclovita del nostro prodotto sarà riciclabile quindi è a 65% riciclato e al 100% riciclabile la parte uomo invece è il come dicevi giustamente tu pet quindi è poliestere poliestere che sono esattamente le bottiglie o i tappi delle bottiglie che troviamo sulla nostra tavola o come i tappi delle bottiglie e tantissime altre cose dall'oveto kinder in avanti che poi vengono trattati che poi sono quelli che aiutate a raccogliere dalle spiagge durante gli eventi di vice allora dalla spiaggia guarda ti si apre un mondo perché raccogli veramente di tutto quindi c'è la sfortuna di raccogliere una casistica di cose che è inimmaginabile però tra cui anche ovviamente sia il nylon le reti che il poliestere quindi le bottiglie plastica i vari tappi si trova di tutto come è composto il nostro capitale ad oggi Simone e io abbiamo il 100% della sua età con il 5% che viene trasferito a fine campagna con l'ITA a FTA ad oggi l'acceleratore non ha ancora avuto accesso al 5% lo avrà al termine della campagna di l'ITA quindi ad oggi è tutto 55-45 in mano a Simone Alberto al termine della campagna di l'ITA verrà ceduto una certa quota all'acceleratore e agli investitori che avranno partecipato alla campagna di Fandre esattamente allora l'obiettivo è quello di stare comunque con una quota sufficientemente bassa perché il progetto sta piacendo molto abbiamo la fortuna di avere veramente tanti investitori che stanno bussando la porta anche a livello di fondi e quindi questo ci dà da un lato un bellissimo segnale che il progetto piace dall'altro ci obbliga a gestire con una certa attenzione la prima fase della nostra vita che è questa in modo tale che ci resti a sufficienza capisci società da poter fare eventualmente un secondo run tra poco quindi questo è il primo di almeno due che vorremmo fare bene allora vado lampo sull'ultima una delle ultime domande tra cinque minuti poi passiamo invece a UNUS una che tra l'altro ce l'avamo preparati anche noi e che fa Tommaso D'Alteri uno dei partecipanti che è anche uno dei partner di Impact Now il nostro tour che abbiamo fatto durante l'inverno è giustamente come avete adattato i vostri piani a causa del covid quindi che impatto ha avuto il covid sulle vostre attività negli ultimi mesi allora all'inizio eravamo spaventatissimi siamo stati abbastanza fortunati anche se fortuna è una cosa difficilmente associabile a covid perché siamo stati abbastanza fortunati perché è capitato all'inizio del nostro percorso quindi in una fase in cui eravamo ancora in tempo per settare la strategia di base Giuseppe con cui abbiamo parlato pochi minuti fa lo sa benissimo gli abbiamo chiesto di rivedere il business plan proprio perché da una distribuzione prevalentemente fisica ci stiamo spostando causa covid e grazie a FTA ad una distribuzione che sia molto digitale quindi molti commerce con Simone ci siamo interrogati diverse volte sui punti di forza di debolezza di questi tre mesi di lockdown sono stati punti di debolezza per l'umore che c'è in generale in giro punti di forza perché il team che non lavora full time sul progetto tutte le persone che avete visto che sono dieci persone non ce le possiamo permettere in questo momento hanno potuto lavorare invece full time sul progetto quindi abbiamo avuto dieci dodici persone che negli ultimi tre mesi ci hanno lavorato per otto dieci ore al giorno quindi siamo progrediti tantissimo e ci ha dato la possibilità di equilibrare il canale distributivo come ti dicevo da puramente fisico o prevalentemente fisico a 50 e 50 quindi ci dà la possibilità di essere un po' più tecnologici di quanto lo eravamo pre covid ok e guarda approfitto di questa di questa tua frase ultima per appunto prendere un'altra domanda ricetta fatta avete un canale commerciale vostro o vi appoggiate a una rete di vendita come funziona allora noi abbiamo una rete di vendita con degli agenti in Italia al quale abbiamo affiancato un modello quest'anno che è tutto nuovo non so se nessuno c'è venuta questa idea noi abbiamo gli ambassador che avete visto prima affideremo la presentazione del nostro progetto direttamente agli ambassador che sono le persone che sono più famose nelle singole regioni Fabrizio in Liguria lo conoscono tutti Alessandro in Sardegna lo conoscono tutti quindi loro saranno il biglietto da visita per presentare la nostra linea ai punti vendita in modo tale che nonostante l'umore non sia dei migliori comunque se ci andiamo noi non ci conoscono se ci arriva uno sportivo che conoscono molto bene che è nazionale che è un campione che quindi ci spende una buona parola diventa un ottimo lascia passare diciamo così abbiamo il v-pass ok allora se non vado errada dovrei aver letto più o meno tutte le domande un'ultima appunto su l'impatto sociale la cooperativa di cui parlavi durante il pitch se vuoi darci una frase e poi passiamo a uno allora la cooperativa è fondamentale per il nostro modello di business è una cosa che teniamo nei nostri asset valoriali nel senso che noi facciamo un prodotto che è un prodotto abbastanza fighetto quindi abbiamo un prodotto che è esteticamente e stilisticamente molto molto attraente non stiamo cercando di fare il mercatino eco solidale come facciamo quindi utilizziamo tutto il valore raggiunto della cooperativa come supporto per la parte di operation dei flussi e quindi lasciamo a loro tutti i proventi che derivano dalla vendita dei famosi capi come vintage per ringraziarli del supporto che ci danno mentre per la parte di sito e store usiamo solo i capi nuovi per non creare confusione nella lettura del marchio in questa fase iniziale della nostra vita quindi in questa fase di start up proponiamo capi nuovi mentre la cooperativa è un partner fondamentale per lo sviluppo ma diventa per la parte cioè è fondamentale per la parte di meccanica bene grazie allora io ringrazio Alberto saluto Simone e passerei al pitch di Humus grazie Alberto allora mi sentite sì sto avendo non vorrei avere problemi di linea io ok allora ecco c'è anche Sonia e inviterei sul palco Claudio e Elena di Humus che così iniziano iniziano il loro pitch eccoli e io invece scendo dal palco e Elena e Elena e Claudia e Claudia e Claudia e Claudia eccoli ciao Claudio lasciamo a voi grazie mille grazie mille come sempre usiamo l'ausilio delle slide che ci aiutano un po' a raccontare la nostra avventura non ho fatto la condivisione dunque innanzitutto grazie per la vetrina interessante anche con nuova e particolare che mi sembra molto funzionale sull'interattività e sulle domande dunque se vedete le slide passo avanti io appunto sono Claudio Naviglia e sono CEO e co-founder di Humus Humus è la start-up che promuove contratti etnici in agricoltura di cosa stiamo parlando proviamo a inquadrare un po' il fenomeno della contrattualistica del lavoro in agricoltura in Italia abbiamo più di 405 mila lavoratori stranieri nel settore e di questi più del 70% lavorano in maniera non del tutto regolare stiamo parlando di tassi elevatissimi di lavoro nero quindi di lavoro senza contratto di lavoro grigio che è un fenomeno che interessa molto il nostro paese in quanto appunto in agricoltura c'è la possibilità di fare una sorta di contratto a chiamata e spesso le giornate dichiarate ufficialmente non sono assolutamente quelle realmente lavorate dalle persone sia straniere che non e questo corrisponde a una carenza di diritti delle persone poi nel settore ad esempio nella richiesta del sussidio di disoccupazione tutto questo è un po' quello che fa da Humus a quello che è poi anche il caporalato che è un fenomeno spesso collegato più al sud Italia ma che in realtà è molto presente e che è una vera e propria intermediazione illecita nell'accedere al lavoro in agricoltura ma di questo poi parleremo più ampiamente mentre abbiamo esaminato un po' il discorso dei lavoratori c'è anche ovviamente il fronte delle aziende le aziende agricole in Italia sono estremamente numerose come vedete più di un milione e seicentomila e in una percentuale importante il 39% di loro in qualche modo si affida a una mano d'opera che non è completamente regolare per varie ragioni abbiamo cercato nel nostro lavoro un lavoro molto che parte dal sociale quindi dall'ascolto del territorio dell'animazione anche dei territori in cui ci poniamo di dialogare con le aziende quindi di non andare su un piano di condanna e di giudizio in qualche modo di andare a capire il perché e abbiamo siamo arrivati a una serie di elementi quindi questo è un dialogo che è nato non solo con gli attori e con le aziende stesse ma anche con le associazioni datoriali con i sindacati quindi per un fenomeno molto complesso come quello del lavoro in generale del lavoro agricolo l'irregolarità ha delle basi variegate e qui ne trovate alcune che secondo noi sono importanti e su quali stiamo agendo direttamente numero uno si fatica ad avere dei canali di ricerca formalizzati quindi dove trovo la mano d'opera spesso c'è ancora una grande informalità si fa ricorso alle conoscenze si è avvicinato e oggi con la grande emergenza del gap della mano d'opera in agricoltura si iniziano a dare delle risposte le barriere culturali abbiamo visto che moltissimi dei lavoratori sono stranieri nel settore e questo alle volte comporta una difficoltà spesso anzi nel dialogare e nel trovare anche una possibilità di appunto reciproco riconoscimento formazione non essenziale le aziende spesso ci vanno a recriminare o comunque a richiedere quanto sia difficile trovare mano d'opera formata in questo settore appunto spesso il discorso della raccolta del bracciantato è lasciato e pensato anche nell'immaginario come l'ultimo o uno degli ultimi anelli della società stratificata economica nostra in realtà c'è bisogno di competenze pensiamo a cosa significa la potatura la semina il trapianto ci sono una serie di importanti skills da poter adoperare e da avere a disposizione per entrare anche in questo mondo la burocrazia come potete immaginare che attanaglia un po' tutto il mondo imprenditoriale italiano in questo caso soprattutto nei periodi di raccolta le aziende non hanno tempo di dedicarsi a ciò e poi naturalmente l'enorme problema della sostenibilità economica nel settore primario italiano non stiamo qui a raccontare che cos'è il prezzo estremamente basso le doppie aste tutto quello che significa la vendita dei prodotti nella grande distribuzione o in altri canali ma è effettivamente un'enorme difficoltà per un'azienda riuscire ad assumere regolarmente dal punto di vista della sostenibilità economica in tutto questo marasmo in questa complessità enorme noi abbiamo cercato di attivare una soluzione che oggi vede una serie di servizi che sono integrati perché il fenomeno è complesso e quindi nella nostra sperimentazione che ormai va avanti da un anno e mezzo abbiamo deciso di mettere insieme diversi elementi per poterli offrire alle aziende quindi risolvere un problema anche di carattere sociale che però ha una natura economica partendo proprio dagli attori economici quindi le aziende andiamo nel nel merito di questi servizi il primo servizio è una piattaforma di matching quindi siamo partiti in realtà facendo del matching offline quindi mettendo insieme aziende e lavoratori con un telefono fondamentalmente con uno sportello lavoro un servizio che è nato in primis qui nella provincia di Cuneo da dove noi partiamo ad oggi abbiamo proprio con questo dialogo continuo sviluppato una vera e propria piattaforma perché? perché i numeri sono incrementati enormemente tanto che abbiamo deciso di uscire proprio quest'anno in un momento in cui sono state segnalate più di 370 mila mancanze di manodopera nel nostro paese per appunto la chiusura delle frontiere molti dei lavoratori stagionali non sono riusciti a raggiungere il nostro paese e quindi anche in un periodo di covid quindi con nuove persone che hanno deciso di ricollocarsi nuovi servizi nuovi settori come l'agricoltura uno strumento per fare questo ricollocamento è proprio la piattaforma e un job si pone come strumento di matching tra le richieste delle aziende e la profilazione dei lavoratori che si mettono a disposizione per loro siamo partiti come vi dicevo da uno strumento non digitale che era uno sportello lavoro nell'anno scorso che ci ha portato in una fase iniziale a riuscire a collocare 52 persone oggi con le potenzialità del digitale siamo arrivati ad avere nel giro di un mese 1400 lavoratori iscritti alla nostra piattaforma quindi è stato il primo step tra l'altro il popolamento della piattaforma di mano d'opera da poter poi in qualche modo offrire alle aziende agricole del territorio il primo maggio anche come data simbolica abbiamo deciso di aprire la piattaforma alle aziende agricole è un processo lento di marketing su cui stiamo lavorando molto le prime 25 aziende che poi sono sia della nostra cerchia sia di nuove realtà che si affacciano al mondo humus stanno iniziando ad utilizzare questo strumento secondo asse abbiamo parlato dell'incontro domanda offerta secondo servizio è la formazione abbiamo detto ci abbiamo insistito prima nel perché dell'irregolarità li abbiamo chiamati gli humus lab sono dei percorsi di formazione sui diritti dei lavoratori quindi un lavoro in questo caso preventivo per far sì che i lavoratori che vanno poi a lavorare presso le aziende agricole abbiano coscienza e consapevolezza di quali sono i propri diritti e quindi siano loro in primis a poter in qualche modo reclamare quello che la legge prevede il sistema delle giornate come vi dicevo è un sistema complicato e spesso iniquo insieme al sindacato specifico della FLAI quindi che si occupa dell'agricoltura e a un'associazione di mediatori interculturali abbiamo elaborato questa formazione che in particolare oggi si sta focalizzando sui lavoratori stranieri perché è il nostro focus di origine ci stiamo rendendo conto che anche questo sta un po' cambiando considerate che alla nostra piattaforma ad oggi il 50% delle persone iscritte sono italiane quindi anche questo servizio lo stiamo rimodulando il nostro la nostra progetto di formazione oggi è stato fornito e proposto prevalentemente ai centri di accoglienza della provincia di Cuno dove siamo presenti come vedete anche in un piccolo territorio come in realtà la provincia è grande però sono molti stiamo parlando di più di mille persone abbiamo già un accordo e un'autorizzazione sia della prefettura che del ministero dell'interno per fare questo tipo di interventi formativi andando avanti sul terzo servizio integrato quindi per affrontare le sfide di qui sopra è il discorso del contratto di rete questo è un strumento molto interessante che abbiamo rilevato parlando con le aziende agricole quindi la possibilità per le piccole aziende soprattutto in territori anche marginali o montani o comunque diffusi di mettersi insieme di collaborare il contratto di rete è la possibilità quindi di associarsi come imprese agricole e non per poter sviluppare dei momenti e delle possibilità di condivisione la condivisione di strumenti di trasformazione la condivisione di mezzi agricoli e la condivisione per noi importante sul nostro focus anche della mano d'opera e da qui il discorso del job sharing quindi la possibilità per aziende che si mettono in rete di poter utilizzare la mano d'opera in percentuale rispetto alle proprie esigenze e quindi abbattere un po' i posti di gestione di quello che è un contratto di lavoro i contratti di rete che abbiamo attivato da quando siamo nati sono due uno in Vallegrana con 22 aziende e uno più piccolo sempre nella nostra provincia nel Saviglianese stiamo ragionando con delle realtà del Milanese e in altre zone del Piemonte per attivarne altre sono processi di accompagnamento appunto piuttosto lunghi ultimo servizio che è in work in progress è il rilascio di un bollino etico alle aziende che si rivelano particolarmente virtuose quindi forniamo degli strumenti chiediamo sicuramente anche un esborso economico maggiore perché puoi assumere in regola ovviamente dei costi maggiori ma al contempo vogliamo rilasciare un bollino che possa essere speso per linee commerciali particolari la nostra mission di tutto il percorso è proprio alla sostenibilità ambientale che qualche anno fa non avremmo assolutamente pensato avrebbe scalato il mercato pensiamo al biologico oggi si possa finalmente associare anche una sostenibilità sociale dei prodotti agricoli e sempre questo bollino rilasciato sui nostri tre assi quelli di cui abbiamo parlato prima quindi l'assunzione regolare la formazione e la collaborazione anche attraverso i contratti di rete procedo un po' sul discorso del mercato ci rivolgiamo ovviamente a un target ristretto soprattutto piccole aziende e piccole aziende vedete quelle 27.000 che sono particolarmente informatizzate anche per utilizzare i nostri strumenti virtuali abbiamo diversi competitors quello che ci differenzia è il fatto di avere l'integrazione di tutti i servizi quindi il match in informazione la rete e il bollino etico sono dei servizi che noi mettiamo tutti a disposizione e quindi ci ricaviamo una nicchia di mercato specifica sul discorso della manodopera e degli inserimenti in agricoltura con i servizi annessi i nostri meccanismi di ricavo sono l'intermediazione quindi i 50 euro a match che richiediamo a copertura a spese della piattaforma l'attivazione dei contratti di rete e le formazioni che invece stabiliamo a seconda di preventivi che concordiamo con gli attori con i quali entriamo in relazione spesso appartenenti al terzo settore e al sociale humus è una srl una start up innovativa a vocazione sociale abbiamo da poco compiuto un anno di vita la compagine sociale è il team è composta da me ed Elena che siamo soci al 40% della nostra start up e Luca che collabora con noi in realtà è una delle aziende agricole che è entrata a far parte del nostro mondo veniamo tutti come verrete da un'esperienza sociale stiamo mettendo a disposizione queste esperienze di un mondo agricolo per cercare di risolvere quella complessità di cui parlavamo prima abbiamo già fatto un aumento di capitale l'anno passato con un socio l'ente CRC9 che è un ente strumentale della fondazione CRC quindi Cassa di Risparmio di Cuneo che ha deciso di investire nella nostra start up diventandone socia 20% con un sovrapprezzo vedete appunto di 29.000 quindi sono entrati con 30.000 dentro il capitale ma con in realtà poi un 20% di quota ad oggi quindi siamo tre soci e stiamo in campagna con l'Itaco cercando di arrivare a una diluizione del capitale del 25% delle nostre quote raggiungendo un 100.000 euro di crowdfunding con un minimo anche di 50.000 per dare esito positivo alla campagna stessa ottima notizia dell'ultima settimana dopo un lungo processo di studio di racconto di conoscenza il gruppo Ecor Natura Si che appunto è sul territorio nazionale si riconosce per essere uno dei punti distributivi del biologico del biodinamico di tutto un certo tipo di agricoltura di trasformati ha deciso di investire in humus sia all'interno della campagna sia con degli accordi commerciali che ci porteranno proprio da una parte a mettere a disposizione la piattaforma per le aziende del proprio circuito e dall'altra anche ad elaborare insieme la strategia del bollino etico di cui ho parlato in precedenza questa è un po' la nostra roadmap siamo partiti da un acceleratore a impatto sociale che è Social Fair un acceleratore di Torino abbiamo vinto dei premi abbiamo continuato il nostro percorso fino alla Costituzione e ad oggi siamo appunto in campagna siamo parte anche della rete Resontro per Andro che è una rete molto interessante di imprenditori su scala nazionale l'impatto sociale che per noi è molto importante ed evidente parte dall'assunto che la collaborazione e lo sharing tra le aziende possa creare una sostenibilità economica maggiore per loro e questo generi del lavoro etico e regolare per i migranti ma non solo come vi dicevo il tutto sta montando in maniera molto veloce e questo quindi un aumento di occupazione che di conseguenza possa a cascata migliorare la qualità della vita di tutti i lavoratori all'interno del settore agricolo l'immigrazione quindi per noi diventa una risorsa all'interno di questo settore e una risorsa poi all'interno del nostro paese abbiamo un ottimo eco dal punto di vista comunicativo varie ovviamente spesso focalizzato sul Piemonte dove siamo installati ma anche a livello appunto nazionale il Corriere e la Stampa hanno parlato di noi e questo ci permette di puntare molto sulla nostra reputation che stiamo piano piano costruendo Humus quindi è in questo momento in una fase di a cavallo tra diciamo un seed una start up ha consolidato un buon business model e sta per grazie anche alla piattaforma molto interessante per andare sul mercato anche nazionale e per questo è entrata in questa campagna per avere l'ausilio di capitale diffuso da poter investire in questo senso grazie ora proviamo a togliere la condivisione voglio ringraziare Claudio per questa presentazione e come per CY faccio una breve lista di punti del perché abbiamo accompagnato Humus in questo processo e poi lascio lo spazio a Silvia per le domande allora per quanto riguarda ciò che ci ha convinto di Humus prima di tutto rispetto appunto alla start up che è stata presentata prima da Alberto qui si parla di un servizio che genera un impatto sociale versus un prodotto che genera impatto ambientale e ciò che ci è piaciuto molto è che a nostro avviso Humus ha trovato un modo per rendere sostenibile l'impiego stabile in agricoltura come ha presentato Claudio ci sono vari problemi legati al tessuto socio-economico del paese e crediamo che loro abbiano sviluppato una soluzione che possa efficacemente risolvere questo problema il secondo punto principale è appunto l'impatto sociale che potenzialmente si può generare i numeri di cui parlava Claudio sono giganteschi e poi è anche cronaca di questi giorni insomma dei cambiamenti che stanno succedendo a livello nazionale per quanto riguarda l'impiego in agricoltura e crediamo che se anche riuscissero a raggiungere una frazione dei numeri che ci ha presentato l'impatto sociale sarebbe comunque enorme e questo è uno dei sicuramente dei motivi validi il terzo motivo è la presenza di investitori istituzionali che hanno validato l'idea e che si sono interessati al progetto che per quanto riguarda una start up è sempre un punto a favore e la conferma è stata data appunto da Natura Sì che ha voluto sviluppare una partnership con Rumus per certificare il lato etico delle aziende agricole e a questo punto io ho terminato lascio la parola a Silvia per le domande eccomi sono di nuovo qui grazie Giuseppe concordo su quanto detto anche da Giuseppe proprio per il tema da voi affrontato quello del caporalato e appunto mi collego a questa cosa per farti subito una domanda a cui avevamo pensato nel frattempo appunto invito tutti a votare le domande e a farne di nuove per Rumus come in questo periodo di maggiore attenzione data al fenomeno del caporalato e al di là del caporalato e dello sfruttamento dei migranti proprio di precarietà dei lavori in agricoltura anche per italiani come voi pensate di sopportare le aziende di agricole e come pensate di poter giocare un ruolo ancora maggiore a seguito di questa della crisi del covid appunto come pensate di riuscire a trovare ancora di più una soluzione al problema della precarietà lavorativa in agricoltura in realtà per noi il covid è stato qualcosa che ha sconvolto molto e accelerato i tempi di trovare soluzioni di più ampio respiro nel senso che abbiamo sempre pensato di lavorare con i tempi di quelli che sono i processi complessi di servizi innovativi da un punto di vista economico e sociale ma con una problematica che se è atavica nel paese e non è significa che ha in gioco diversi attori e diverse problematiche connesse anche la piattaforma era qualcosa che avremmo voluto sviluppare con tempistiche diverse e abbiamo accelerato proprio per rispondere a un qualcosa che ci sembra importante che significa non ci sono lavoratori poi c'è una grande esigenza da anni si parla della necessità di creare uno strumento di incontro domanda offerta facciamolo in qualche modo sperimentiamolo ne sono sorte anche delle altre quello che ci contraddistingue è da una parte è anche un appello che noi abbiamo lanciato se è vero che oggi c'è un'emergenza parola che non amo moltissimo attenzione a far sì che il lavoro che andiamo a creare non sia di nuovo il lavoro di prima andiamo a mantenere saldo all'impostazione cercare un lavoro che però sia etico che sia regolare che quantomeno rispetti i contratti nazionali in tutto ciò nel caos sappiamo che si possono innestare anche figure di intermediazione come tu hai citato i caporali che sono presenti e laddove c'è caos saranno ancora più presenti avranno ancora più campo per agire lo stanno già dimostrando le varie le varie inchieste in corso e i vari approfondimenti di alcuni articoli di giornale collegandomi a questa a questa riflessione appunto per renderli più stabili questi contratti voi immagino non vi affidiate ai voucher ma provate a offrire contratti stabili quindi a tempo indeterminato e determinato sbaglio o come quali tipi di contratti offrite ai lavoratori e alle aziende come opportunità di assunzione sì appunto noi non assumiamo in primis personale perché prima non è una scelta e secondo non è quello il nostro obiettivo l'obiettivo è proprio quello di dare uno strumento che permetta questo incontro partendo dal fatto che se c'è un'intermediazione illecita significa che c'è una necessità di intermediazione quindi facciamola lecita e facciamola bene quello che chiediamo alle aziende però è in cambio di uno strumento che è a disposizione smart interessante di darci delle garanzie le garanzie sono il caricamento del contratto sulla piattaforma quindi chiediamo che questo contratto sia presente per andare a contrastare il lavoro nero i contratti che sono disponibili quando l'azienda fa richiesta a un lavoratore di entrare in contatto appunto sono il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato che già in agricoltura quello a tempo determinato col sistema aggiornato è estremamente flessibile per cui ci sembra che siccome già la legislazione ha fatto un bel lavoro da quel punto di vista di andare incontro alle estreme difficoltà e alla precarietà del mondo agricolo di utilizzare quel tipo di supporto i voucher esistono per noi per come l'abbiamo impostata e pensata non sono lo strumento più adatto a andare proprio a contrastare questo tipo di derive e quindi utilizziamo quelli che ci sono e che sono già funzionali e pensati proprio per la peculiarità del mondo ti ringrazio allora vado a leggere qualche domanda allora intanto appunto quale obiettivo leggo quale obiettivo numerico di realtà agricole volete vi state prefissando quindi in base a quanti candidati sono sulla piattaforma in questo momento quale per voi potrà essere un buon risultato ne leggo tre poi almeno rispondi a tutte se oltre al settore agricolo intendete ampliare la vostra la vostra offerta di job matching anche ad altri settori che immagino l'edilizia e il turismo che sono altri due settori in cui sia il caporalato che la precarietà lavorativa sono molto molto estesi e molto diffusi purtroppo e ci chiedono anche eventualmente dove vengono prodotti vengono venduti i prodotti agricoli di queste aziende però appunto immagino potrei rispondere a tutto in questo momento vai l'obiettivo della piattaforma direi che tutti i 1400 lavoratori trovino lavoro per cui se sia in due tre quattro 1400 aziende lo scopriremo se è un discorso di sostenibilità economica lo stiamo valutando ma ad oggi in fase di start up ci sono ovviamente i dati numerici ma c'è poi un dato anche pressante di quello che sono dei lavoratori che si aspettano che il servizio funzioni per cui il nostro obiettivo è quello oggi che tutte le persone che hanno voluto credere nello strumento e che hanno anche dedicato del tempo a iscriversi possono avere una risposta quindi è anche un appello alle aziende agricole c'è uno strumento utilizziamolo perché anche su questo poi faremo un bilancio a fine stagione di ognuno cosa ha messo a disposizione il discorso degli altri settori ritornano a un po' ce lo chiedono spesso soprattutto sul discorso turistico che ha anche per i contratti è chiamata qualcosa di molto simile al contratto aggiornato della ricoltura quando ci sono i contratti assolutamente e che ha anche difficoltà a reperire manodopera e formate e quant'altro facciamo una cosa alla volta ci rendiamo conto che tutto è estremamente complesso e quindi siamo anche umili nell'affrontare una questione alla volta e se una volta ben rodato il meccanismo ad oggi siamo convinti che il nostro business model sia ben rodato e funzionale perché no eventualmente trasferirlo ma step by step rispetto ai prodotti agricoli dove le linee commerciali spesso le aziende che ad oggi si rivolgono a noi sono aziende di circuiti se vogliamo indipendenti quindi che si affacciano anche alla GDO quindi la grande distribuzione organizzata ma nella maggior parte dei casi lavorano con i gruppi di acquisto solidali lavorano con l'alveare che dice sì che è un altro intermediario che cerca di abbattere un po' la filiera con cui siamo in un buon rapporto di partnership lavorano su cercare anche altre linee commerciali proprio perché per come lavorano per come portano avanti sia l'agricoltura dal punto di vista ambientale che anche sociale hanno bisogno di canali che non possono essere solo i supermercati altrimenti non sopravviverebbero ci auguriamo ed è il lavoro che vorremmo fare con Natura City di arrivare a portarli anche dentro i negozi Natura City con una certificazione condivisa di una sorta di super biologico biologico e socialmente sostenibile il tutto per finalmente sapere da dove arriva quello che mangiamo bene allora non vedo altre domande se non ce ne sono altre direi leggo la seconda frase della domanda di Giorgio Piga sul controllo in caso di abusi da parte degli imprenditori delle aziende agricole e dei lavoratori quindi se anche dopo aver fatto il matching immagino sia questa la domanda ma comunque la aggiungo io se dopo aver fatto il matching operate anche un controllo sul rispetto delle regole dei diritti dei lavoratori o vi fermate al matching ma dunque anzitutto non ci vogliamo sostituire a chi fa i lavori quindi gli ispettori del lavoro no certo ovviamente e le associazioni del settore che fanno un ottimo lavoro seppure in condizioni molto complesse abbiamo cercato di attivare dei meccanismi preventivi da una parte e virtuosi di chi fa bene è un po' un ribaltare il punto di vista noi effettivamente se non carichi il contratto la prima volta del primo matching che fai con noi non puoi più usare i nostri servizi se non quello che stiamo lavorando è uno strumento condiviso tra lavoratore e azienda di monitoraggio delle giornate lavorative e questi due feedback devono essere incrociati e alla fine dell'anno c'è un controllo effettivamente su quello che è un documento che le aziende hanno delle giornate che pagano per il rilascio del bollino quindi ci sono dei criteri oggettivi che pensiamo di attivare ma non nell'ottica di un appunto un meccanismo repressivo ma nell'ottica di un andiamo a creare linee commerciali nuove basate sempre sul controllo ma su un controllo che vada a promuovere le aziende virtuose e questo è un po' il punto di vista bene allora non vedendo altre domande non so se vuoi aggiungere tu qualcosa altrimenti lascio lascio a Sonia la conclusione dell'evento io sono benissimo grazie della disponibilità e allora io chiamerei Sonia sul palco virtuale grazie Claudio un saluto a Elena e a presto grazie Claudio grazie Silvia eccomi di nuovo sul palco virtuale grazie a tutti per essere stati con noi chiudo innanzitutto chiedendovi di rispondere ai sondaggi se vi va perché ci piacerebbe conoscere meglio quali siano le vostre preferenze di investimento anche per potervi offrire prodotti più in linea con i vostri valori e i vostri interessi e poi per qualsiasi ulteriore domanda Silvain vedo che ha scritto che non abbiamo chiesto due due domande Silvain scusaci forse ci siamo persi qualcosa mi è sfuggita quella sulla comunicazione la comunicazione al mondo agricolo la ricerca di clienti Silvain immagino che tu stia parlando ti riferisca di Humus e delle aziende agricole in maniera molto rapida ti dico è un un contatto che ovviamente poi viene da diversi in diversi modi è un B2B che Humus gestisce in vario modo anche in base alla rete di imprese agricole di cui si sta parlando quindi magari se volessi qualche dettaglio in più possiamo risponderti più nel dettaglio vedo tra l'altro che Giorgio sta scrivendo qualcosa quindi Giorgio sei ancora in tempo per qualche domanda vi ricordo che i progetti sono online è possibile investire su CY fino al 27 maggio e su Humus fino all'1 giugno l'obiettivo minimo di CY è 80.000 euro mentre l'obiettivo minimo di Humus è 50.000 euro noi alla fine vi inseriremo qui anche il link per poter accedere ai progetti nessuna domanda da Giorgio ok comunque per qualsiasi informazione aggiuntiva noi siamo sempre disponibili potete scrivere a supporto at vita punto co che ho appena scritto in chat non è andata va bene comunque trovate i nostri riferimenti nelle mail che vi sono arrivate che altro ringrazierei gli imprenditori i fondatori di Humus e CY per essere stati con noi voi per per averci ascoltato e per qualsiasi informazione non non esitate assolutamente a scriverci a chiamarci ci sono tutti i numeri e i contatti anche nelle comunicazioni ed ecco qui il link per andare a scaricare tutti i documenti che vi serviranno per conoscere meglio i progetti di oggi speriamo di rivedervi presto magari di persona speriamo e a presto grazie a tutti a presto buona serata a presto a presto Grazie a tutti.